di polizia locale. Nel mese di ottobre era stata annunciata in una conferenza stampa tenuta da assessore comandante del corpo della polizia locale l'adesione da parte del comune di Fano ad un progetto ministeriale sul fenomeno del randagismo e della corretta detenzione e conduzione dei cani da parte dei proprietari negli spazi pubblici o nelle aree verdi comunali. Questo progetto prevede anche controlli straordinari da parte degli agenti in orari extra lavorativi grazie ai fondi messi a disposizione da parte del governo come annunciò allora lo stesso assessore. Voglio ricordare che tutti i cani devono essere portati al guinzaglio e che un proprietario che esce a passeggiare con il proprio cane deve essere dotato di sacchetto per raccogliere le deiezioni. E così i primi risvolti di questa lotta senza quartiere alle cattive abitudini si sono già fatti sentire come è accaduto di recente nella zona del Lido ed in un orario anche abbastanza insolito le 6 e 30 del mattino. Ecco dove lui in attimino è stato un minuto sciolto per fargli fare una sgambata e le vigilesse insomma imperterrite hanno voluto punire mia moglie per questa disattenzione tutto qui. Tra l'altro lui era insomma badato cioè non era libero per i fatti suoi era lì vicino a voi. Sì sì lui i bisogni già li aveva fatti prima era a due metri dalla mia fidanzata tra l'altro e lì è zona insomma demaniare quindi è come se fosse in spiaggia come se fosse nella spiaggia dedicata ai cani si può dire perché. E invece no le vigilesse probabilmente hanno avuto delle direttive atte a multare insomma questi questi reati e perciò paghiamo la multa. però insomma chiedi un attimino di capire e comprendi un po' la situazione. Sì ecco perché magari no le regole ci sono vanno rispettate però possono anche andare certo una volta magari interpretate dalla no dalla gravità del fatto ecco tutto qui. C'erano bambini altre persone vicino a voi? No a distanza di diversi metri c'era un'altra signora con il suo cane che ho visto che cioè mi ha raccontato da mia moglie che ha avuto insomma anche lei a che fare ho visto che parlava con le vigilesse quindi non so se era in regola oppure. Ecco perché diciamo è venuto alle 6 e mezza di mattina. Sì alle 6 e mezza di mattina. E voi eravate lì a quell'ora proprio per evitare insomma situazioni di commissioni con l'antepristo. Ci andate presto proprio per questo? Sì esatto ci andavamo presto proprio per questo per fargli fare un attimo una sgambata no se c'è la possibilità sempre è chiaro che se vai alle 8 di sera questo non è fattibile.